Il video è offerto da... Noi avevamo, dopo le note vicissitudini, la necessità di tornare purtroppo sul mercato e Enzo si è orientato, ha pensato soprattutto come caratteristiche giocare a un giocatore che garantisse un certo tipo di fisicità e quindi abbiamo pensato che se a questo ci abbinavamo un giocatore che avesse già una lunga esperienza come Cuba ha dei campionati europei, in particolare di quelli italiani, fosse una scelta che avesse un senso. Io conosco un po' la storia, ho visto che l'ultimo 3-4 anni ha fatto una stagione buona, una scuola bella con un grande allenatore, con un grande ex giocatore, giocatore NBA. Io piace tanto l'allenatore che ha già giocatore NBA in palacanestro, secondo me è un po' più facile, perché ho giocato con Pozeco a Varese, ho parlato tanto con lui, andare come esposito, secondo me fa un player coach, io piace tanto. Mi piace come la squadra, è una squadra grande, giovane, lavora sempre con la grinta, con un grande campo qui a Pistolia e io sono felice di venire qua. Il campionato secondo me è stato un po' tanto livello e un po' meglio, perché l'anno scorso sono sempre due o tre squadre, secondo me quest'anno sono sei o sette squadre, posso giocare con il palacanestro. I play-off sono aperti per tutti, secondo me a Pistolia c'è la possibilità di fare qualcosa, io sono venuto qua per poter un'esperienza, un po' di grinta e di difenza, un po' di punti, un po' di tutto, togli da me la mano alla squadra, se ho bisogno di qualcosa io lo fai. Sono a disposizione di coach e anche della squadra, anche dei giocatori, bisogna prendere un po' il ritmo della partita e dopo secondo me si evitiamo. Il più mentale, un basket e tante mentali fisicamente ce la fai, ma il mentale è di più, secondo me è di più di grinta, secondo me. Alla fine ha fatto una partita non bene, non male, secondo me può fare meglio con Trento che è in grande forma adesso. Secondo me questa partita anche posso vincere, alla fine ha perso di sette, ha fatto due o tre errori alla fine che fa male, secondo me è bisogno di giocare con più grinta, più emotivi e più fisiche anche, che fa la differenza alla fine. Sì, non è facile aver avuto tante fortuna perché la sua scuola ha chiamato uno o due giocatori. Alla fine, secondo me per esempio in tempo, adesso sono tutti tutti qua, sono tutti pronti a lavorare per l'ultima venti, qualcosa a partito. Bisogna un lavoro subito, adesso non c'è più scusa per lavorare e subito sono già pronto per Bologna a martedì e devo andare così, prendere una partita alla volta, un allenamento alla volta e dove lavorare, lavorare e venire pronto. Il talento ce l'hai alla fine, dove giocare con la grinta e di più di energia degli altri. Sì, è un po' difficile perché dove prendere il ritmo la squadra, l'attore, un po' il schema, un po' di tutto. Alla fine io sono professionalista, sono arrivato in forma e bisogna sempre capire il schema e la squadra. Sono molto contento, ho preso prima tutti i schema, ho visto tutti adesso, ho preso sempre il ritmo della partita, perché non ho giocato per quattro o cinque mesi. Alla fine secondo me l'ultima partita per la Michievole, ho ancora una settimana di lavoro con loro, due volte alla settimana fa bene, secondo me ancora sarà pronto per martedì. No, è aiutare la squadra, l'energia tanto. Se il coach ha bisogno di difenza, io fare difenza, prendere il ribalzo, assist, punti, sono qua per aiutare la squadra. Perché loro hanno talento, un grande talento individuale, anche noi. Alla fine il talento ti vince la partita, ma anche se tu hai di più grinta e meno talento, anche questa posso vincere la partita. Grande difenza, uno o due ribalzo in più, una mano in più, dover fare qualcosa in più di vincere la partita. Il paracanestro è così. Alla fine devi giocare più aggressivo degli altri, anche giocare fuori di casa, devi fare ancora di più. Secondo me anche loro, una grande squadra, un grande giocatore, solo dove andare in giro a 0-0, dove giocare subito, non aspettare uno o due minuti, dove giocare subito. L'ultima cosa, dove rimane insieme, meno dieci, più dieci, meno cinque, dove rimane insieme e continuare a lavorare, perché la partita è lunga. Il video è offerto da